La strada di Gesù è la carità e dobbiamo stare lontani dalle tentazioni, lo ha detto il Papa nell'Omelia della Messa del Mattino. Quella è la strada di Gesù Cristo, l'abbassamento, l'umiltà, l'umiliazione pure. Perché? Se un pensiero, se un desiderio ti porta su quella strada di umiltà, di abbassamento, di servizio agli altri, è di Gesù. Se ti porta sulla strada della sufficienza, della vanità, dell'orgoglio, sulla strada di un pensiero astratto, non è di Gesù. Pensiamo alle tentazioni di Gesù nel deserto. Tutte e tre, tutte e tre proposte che fa il demonio Gesù, sono proposte che volevano allontanarlo di questa strada. La strada del servizio, dell'umiltà, dell'umiliazione, della carità, ma la carità fatta con la sua vita, no? Le tre tentazioni, Gesù dice di no, no, questa non è la mia strada. Grazie a tutti.